Non conosciamo i motivi perché Gesù partecipa alle nozze di Cana. Vari possono essere le idee, per esempio, che mentre il corteo della sposa si ricava alla casa dello sposo, incontra Gesù con la mamma sua, le piedonne e i discepoli e questi vengono invitati di seguire la sposa, partecipare alla festa. Nella tradizione ebraica, invitare le persone che si incontravano lungo la strada col corteo della sposa era di obbligo accettare, altrimenti si interpretava come cattivo augurio. Quindi questo è un motivo che si può optare. L'altro, essendo Nazareth e Cana, due paesi vicinissimi l'uno con l'altro, niente di possibile che c'era conoscenza con la famiglia della Madonna di Gesù, con la famiglia degli sposi e quindi ci fosse stato proprio un invito formale alla festa. È importante chiarire che Gesù con alcuni discepoli, la Madonna, un po' di donne che seguivano la Maria, partecipano al sposalizio di Cana e quindi al banchetto di Cana. Sappiamo, da quello che ci racconta il Vangelo, che viene a mancare il vino e meno male che possiamo dire, meno male che c'era Gesù, perché essendoci Gesù sappiamo la conclusione, un segno di croce. Gesù benedice quell'acqua e l'acqua diventa vino predibato. Chi lo sa se, azzicché di Gesù, avessero invitato il sindaco o il potestà o colui che dirigeva il paese, la tribù, il capo tribù, se fosse stato capace di cambiare l'acqua in vino. Questo è un problema che ci deve richiamare all'attenzione, perché la deriva della famiglia attualmente, non sappiamo quanto finirà e come finirà, perché si è preso una discesa così immediata, proprio scansonata, senza criterio, che il valore della famiglia, diciamo tradizionale, ma della famiglia voluta da Gesù, è voluta anche dal buon pensare dei popoli, a prescindere dalla religione cristiana, oggi non ci troviamo più, perché ci sono le unioni libere e ci sono poi le conseguenze, che un figlio, dei figli, hanno due papà o due mamme. E questo è contro natura, mettiamoceli in testa questo, è contro natura. Purtroppo, dove sta il difetto principale di questa crisi del matrimonio? Che oggi papà e mamma, quando gli si affaccia il problema dei figli, dicono che questi cresceranno e poi penseranno loro stessi a trovare una sistemazione. Questo significa scaricarsi delle responsabilità. Viene a mancare il senso divino, dato da Dio, il senso della paternità, il senso della maternità. Di questo passo preghiamo, perché si compie continuamente il miracolo delle nozze di Cana. Raccomandiamoci alla Madonna, tutti, perché è stata la Madonna che in quella occasione ha dato spazio a Gesù di compiere il miracolo. Raccomandiamoci alla Madonna, perché, come ci ha insegnato Padre Pio, ci sia il rispetto della famiglia e l'amore verso i figli e la società in cui si vive. Grazie a tutti! Grazie a tutti!